Andiamo! Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, ci troviamo nel furgone, stiamo molto larghi, ci stiamo dirigendo in pista, oggi dei due qualifiche, vi teniamo aggiornatissimi, non abbiamo fatto neanche colazione, solo le ore, che ore sono? 6,57, no ragazzi, 6,57, se vedete il disagio nel mio volto è perché c'è realmente, non ha niente di simulato, cioè proprio il disagio reale. Prima di più ci sta parecchio la line su questo furgone, loro di c'è il cosa. No, 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 non ho commenti momentaneamente. Allora, quindi questo furgone è l'unico che sta andando bene, mister Bozzi, che occupa esattamente la terza posizione dopo il residing, io sono dodicesimo, se sbaglio, e invece il nostro amico Lorenzo... Io sono, non lo so, non mi vergogno a dirlo, non ho idea. È un po' a retratto, diciamo così, è leggermente a retratto. Quindi ragazzi, vi teniamo aggiornati nel corso delle palifere su come ci sta andando la gara, e direi anche che qui sembra essere a Indianapolis, mi ricordano anche un po' di strada, guarda. Buongiorno, buongiorno, oggi qualifiche, questa ieri aveva un grip impressionante ragazzi, più che la fine dell'ultimo giorno del warm up, quindi mi sono trovato molto in difficoltà, ho cambiato ancora tutta la macchina e vediamo che cosa ne viene fuori oggi, speriamo di averci preso, già ieri abbiamo fatto una semi-munch, ma era fresco, quindi era la sera molto tardi, abbiamo fatto un'altra munch controllata, ma senza tempi, e la macchina sinceramente andava molto molto forte. Vediamo che cosa succede oggi, che verrà molto caldo anche, perché appunto la mia preoccupazione è che ieri andasse perché era parecchio fresco, vediamo, 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 la pista è veramente incredibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Finita la prima match ufficiale, alla fine a Zardone ho deciso di partire con le Miami, dovrei aver fatto il settimo tempo generale, ho fatto soltanto un errorino, mi sono agganciato a un cordolo, però sono riuscito a riuscirne da solo, bene il risultato, ma non guido fluido, non guido tranquillo, farò qualche modifica per la seconda munch ufficiale, anche perché sul giro veloce sono lento, e quindi non mi sento più sicuro come ieri mattina, quindi dovrò fare ancora modifiche, vediamo un po' come va la seconda munch. Ok ragazzi, appena terminata la seconda munch di qualifica, ancora una volta ho fatto una munch per portarla a casa, cercando di fare passo, ho fatto nuovamente il settimo tempo, questa volta però la pista era più lenta, e ho fatto 0-6 e ci sono una valanga di 0-6, 5-0-6, e io sono l'ultimo, potevo tendenzialmente fare migliorando meno di un secondo, che è in pratica un'incertezza, fino al terzo tempo, quindi dai sono fiducioso, ora proverò di nuovo le Miami e vediamo come arriverà nella seconda munch, per vedere se riesco a fare un saltino in avanti. Ecco ragazzi, terminata la terza munch, purtroppo ho commesso due errori, ma stavolta, vedete, ci sono le nuvole, la mia macchina è tornata ad andare bene, ho fatto 0-37,6 di best, quindi sono contento, però ho fatto due errori, ho cambiato anche le gomme. Vediamo ultima hit, vediamo come saremo messi al termine delle batterie, c'è da lottare, forte. Allora ragazzi, è finita anche la quarta ed ultima munch, stavolta ho migliorato il tempo globale, 0-5, abbiamo fatto sotto l'acqua, ma il grip della pista era talmente alto che probabilmente non è cambiato quasi niente, temperatura un po' più basse, la macchina va bene, ho girato ancora una volta, due volte sotto il 38, con un best mi pare di 37,6, quindi sono contento, peccato, che sempre per i soliti decimi, ho fatto nuovamente il settimo tempo, quindi ho tre volte il settimo tempo su quattro, vediamo cosa dirà la classifica generale, probabilmente per il gioco degli scarti qualcuno mi finirà avanti, vediamo, vediamo, ad ogni modo domani partiamo per la semi, abbastanza fiduciosi, vediamo che temperatura è, gara molto incerta, stasera sarà da incollare tantissime gomme per essere pronti un po' a tutto. vediamo, 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 vediamo. cena ragazzi di stasera, Bosi è già a posto, vedete, anche Lorenzo, ma qui che apparecchiatura c'è ragazzi? cos'è? è un biscottino buonissimo, cos'è? è un biscottino buonissimo, no, è tu? io oggi ho fatto la gara, non mi ha cagato, ho distrisci, ma io ho fatto la gara con stasera. dici la posizione? settimo la classifica generale, classe? 70 70 70 70 no, che categoria! over, 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 F2 Pratt, abbiamo anche un ospite, mio grande amico Gabri, e suo padre Luigi, e niente ragazzi, siamo a cena e quindi, direi che siamo a posto, ora mi inquadrino anche a qualche portata, va! questa è una fiorentina è una fiorentina sta a posto ragazzi mani, mani, in qualità di risposta per Giosho, me lo fai in iscrivetevi? iscrivetevi al canale di Fabrizio e Ghesi grazie 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 grazie